Non solo cenere ma anche spazzatura. Ecco come si presenta la città di Catania. Queste riprese sono state effettuate stamattina. Nonostante le aperture dei centri di raccolta, i sacchi, come vedete dalle immagini, rimangono davanti le abitazioni. La città è piena di rifiuti e cenere vulcanica, la situazione non migliora di giorno in giorno. Emergenze varie, tombini intasati, questo è il biglietto da visita della bella Catania. Nessuna spazzatrice in vista, nessun operaio che pulisca. Sindaco Trantino, ok va bene alle inaugurazioni delle mostre, spettacoli alla Villa Bellini. Ma è questo lo scenario che offriamo a turisti e cittadini?